Alla fine Capitan Francesco Scarpino lo aveva promesso, vittoria doveva essere vittoria è stata. La SD Wolves Savellino vince per il secondo anno consecutivo il campionato regionale della FSSI, Federazione Sport Sordi Italia. A Napoli, ai Colli Aminei, i lupi di Mister Guanci hanno battuto tutti. Nel primo match Roboante 9-2 sulla Enz Caserta, poi i biancoverdi hanno superato la Rubino Napoli con un rotondo 8-1. E poi, nell'ultimo match, la GSS Torrens per 3-1. Mattatori della Kermess regionale, i cannonieri Brunellini e Bigini, che hanno messo al referto ben 5 gol a testa, e Cicero invece che ne ha realizzati 4. Non c'è sosta adesso per la SD Wolves Savellino. I ragazzi del presidente Antonio Russo, dopo il bis del campionato regionale di Futsal, sono già proiettati a quello di Beach Soccer, che si svolgerà la settimana prossima in quel di Invergadieboli, al Made in Italy, dove i lupi vogliono ritornare a vincere lo Scudetto per la seconda stagione consecutiva.